Da lassù si respira aria natalizia in gran parte dell'anno, ma da oggi l'atmosfera è festosa a tutti gli effetti, sì perché a quota oltre 900 metri. Il borgo medievale di Monteacuto, sospeso tra Emilia e Toscana, ha già aperto il locale mercatino di Natale, grazie all'attivissima proloco della zona, che nei weekend fino al 12 dicembre ha allestito. Nella piazzetta della chiesa una esposizione di prodotti locali, compreso l'artigianato decorativo per raccogliere fondi da destinare al restauro della chiesa parrocchiale di San Nicolò. Io lavoro da autodidatta, mi piace lavorare in legno e diciamo che le mie piccole opere sono praticamente tutte in legno. Le statuine in genere sono modellate in creta. I prodotti sono tutti locali, sono tutti artigianalmente fatti a mano e questo è il nostro mercatino. E' questo che è anche successo, nel senso che tutte le persone che portano gli espositori e così, li hanno fatti tutte con le loro mani. Non sono comprati come in certi mercatini che ce n'è di tutte le specie, sono molto più belli e più grandi. Però noi, il bello del nostro mercatino è questo che vi presentiamo.